Cosa c'è? Cos'è che c'è? Una richiesta d'aiuto? Piange? Ha mangiato? Cosa vuole questo piccolino? Hai mangiato? Anzi, hai anche pure lasciato qui? Non è che c'ha dei cuccioli che chiede aiuto? Cosa c'è? Ho mangiato, cosa devo fare? Non vuole andare via Non è che mi dice di seguirla? Guarda, mi dice di seguirla Non è che c'ha dei cuccioli che... Guarda, dov'è che vuoi portarmi? Dov'è che vuoi portarmi? Cosa c'è? Eh? Non so cosa pensare Cosa devo pensare, giuro Cosa c'è? Non sape' di essere freddo Allora c'è... E poi... Non sape' di essere freddo Allora c'è... L'abbiamo... Non sape' di essere freddo Non capisco Sonia che cosa abbia. Ecco c'è.